ma scusate qua il problema è uno che il bariotti si è fatto tre mesi del pali manca un panino che ha la porchetta, quella è la cosa grave Aurelia vai dietro ce l'apri qua e l'hai i peli bianchi della barba e allora il parcheggio non ce lo puoi avere io ce l'ho, ce l'ho pure in testa scusa mi mettiti tu qua allora ma non gli posso che che faccio e allora se vuoi il parcheggio c'è tanta 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 gente sono molto indeciso se usare il midland o usare la tavoletta dovrei usare il midland ma ho troppa voglia di fare una mezza manovra e vedere, sentire in che condizioni hai il ginocchio perché alla fine quando fuori dall'acqua non ti rendi mai conto di come te senti realmente perciò abbiamo il posto, stiamo qua proviamo la tavoletta provo la tavoletta Marco lì che dici? ma si dai un intanto la manda, fai due manovrette, due spruzzetti in faccia e via 100 euro che stai a venire qua alla fine inizio, com'è andata? mi sono fatto male al ginocchio ieri, lo sai pure te? col paracadute da dove sei lanciato inizio? no, quando sono atterrato c'era il prato un po' alto mi si è incastrato il piede e mi sono sfraccicato al ginocchio maggi com'è andata? eh le onde sono divertenti vado con la tavoletta? o con il midland? tavoletta? si si, te come lo senti il ginocchio? eh insomma, ora te lo dico, non lo so non so come mi sento fuori dall'acqua non mi rendo conto, ora vediamo però vado piano comunque ciao 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 cambiamo mood e musica ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Una quantità di gente esagerata Questo c'è Questo abbiamo preso E stiamo da paura On the hunt Oh questo è il team del SOMO SOMO DI VONGOLE Se ne fanno uno spaghetto con le vongole Ma così muo' dici Che te lo dico? Sì infatti forse è un po' esagerata Ha detto una cosa leggera Grazie a tutti Grazie a tutti